Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e benvenuti alla Bottega Didattica per il fai-da-te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. In questo video tutorial vedremo le operazioni con le quali è possibile utilizzare Pinterest. Nella prima parte avevamo visto le caratteristiche generali di questo social media e come utilizzarlo nella didattica. Come si usa Pinterest? Quali sono le operazioni che dobbiamo saper compiere per usare questo ambiente? Bene, prima di tutto dobbiamo creare una bacheca e configurarla e in secondo luogo dobbiamo inserire dei pin in questa bacheca. Questo si può fare in vari modi, li vedremo tutti e tre, tramite un link oppure prelevando il pin da altre bacheche oppure tramite un pulsante da installare nel browser. Vedremo anche come è possibile seguire altre bacheche e quindi salvare pin da un'altra bacheca. Cominciamo con la creazione di una bacheca. Bene, questa è la mia pagina su Pinterest, la pagina a cui si può accedere cliccando su quest'icona. Per creare una bacheca, come si può vedere, basta cliccare col puntatore del mouse su questo più. Cliccando sul più comparirà una scheda, una finestra. Ingrandiamo, qui dovrò mettere il nome della bacheca, scriverò prova Pinterest, poi dovrò decidere se questa bacheca è privata, cioè segreta, oppure è pubblica. In questo caso è pubblica, prende la segreta, devo cliccare questo pulsante, adesso è segreta, la manteniamo pubblica. A questo punto ho terminato questa prima operazione, clicco sul pulsante crea e ho creato la mia bacheca. Adesso sono all'interno della bacheca, perché è vuota ovviamente. Dovrò adesso inserire delle informazioni molto importanti. Ricordiamoci che gli utenti o noi stessi vediamo il titolo della bacheca e da quello capiamo l'argomento che tratta della bacheca. E' molto importante quindi che il titolo sia ben scelto, sia indicativo di quelli che sono gli argomenti e i link quindi che quella bacheca raccoglie. Si possono anche inserire informazioni ulteriori. La procedura da seguire è quella di cliccare su questo simbolo, la matita, e qui abbiamo l'accesso alle opzioni per la configurazione della nostra bacheca. Bene, possiamo inserire una descrizione, perché è importante. Sempre per lo stesso motivo, noi stessi o gli altri utenti possono essere interessati alla nostra bacheca, ma il titolo è necessariamente generico, perché sono una o due parole. Occorre inserire una breve descrizione, due righe, per informare noi stessi, perché potremmo avere tante bacheche e non ricordarci più, o gli utenti che ci visitano, di che cosa, in termini più specifici, si occupa quella bacheca. Quindi una descrizione, diciamo, più dettagliata dell'argomento trattato. Poi abbiamo un secondo tipo di informazione da inserire, che anche questo è tipico, che troviamo in tutti i social media, in tutte le applicazioni web. Dare un titolo, dare una descrizione, dare una categoria, cioè categorizzare. Qui per esempio abbiamo tante categorie e metteremo istruzione. Le altre informazioni le avevamo già visto che era pubblica. Collaboratori, cosa significa? Significa che io posso inserire una o più mail per condividere questa bacheca con altre persone che possano inserire dei link. Si tratterebbe di una bacheca collaborativa, quindi inseriamo collaboratore, la mail del collaboratore, diciamo. A questo punto salvo la configurazione della mia bacheca. Quindi, in questo modo ho creato la bacheca. Possiamo aggiungere i collaboratori anche ricorrendo a questa icona più. Ecco, qui abbiamo già dei collaboratori, io li seleziono. Vedete, automaticamente sono inseriti tra i collaboratori di questa bacheca. Vediamo adesso come inserire i pin in una bacheca. Cambiamo bacheca, per esempio. Entrerò adesso nella mia bacheca dedicata alla storia, risorse sulla storia. Bene, come si può vedere, abbiamo un pulsante rosso salva pin. Supponiamo che io stia affrontando l'argomento in storia di Cristoforo Colombo della scoperta dell'America, tanto per essere banali, clicchiamo su salva pin. Posso procedere in due modi, o caricare un documento, un'immagine o qualsiasi altra cosa dal mio dispositivo, in questo caso dal mio computer, o dal web. A me interessa soprattutto questo, questa opzione, quindi clicco salva dal web. e dovrò semplicemente incollare il link che mi sono già procurato. È un video, ecco qua, di YouTube. Incollato il link, procedo cliccando su Avanti. A questo punto mi si chiede di scegliere un'immagine, tra quelle che automaticamente il programma ha caricato, che deve, in qualche modo, rendere graficamente il mio link, trasformandolo in un segnalibro grafico, appunto. Scelgo questa, si tratta di un cartone animato su Cristoforo Colombo. Come vedete, ho selezionato l'immagine che compare qui, e adesso mi si chiede di selezionare una bacheca nella quale inserirlo. Cerco quella di storia, eccola qui, e gli dico di salvare. Prima, però, procedo a inserire una breve descrizione del BIN. Questo è molto importante, perché è un promemoria per me, o è un'indicazione per un utente che visita la mia bacheca. Dovrò scrivere che cosa. In poche righe dovrò indicare al visitatore, o a me stesso, che cosa si trova andando a questo link, che cosa si trova cliccando su questo BIN. E quindi dare delle indicazioni sul tipo di risorsa che l'utente potrà trovare. In questo caso, animazione, video, potrei scrivere su Cristoforo Colombo, film completo. E' molto importante scrivere una definizione esatta di ciò che l'utente andrà a trovare, ma anche per noi stessi, perché potremmo avere in questa bacheca centinaia di PIN e non sappiamo più a che cosa esattamente corrispondono, e a quel punto dovremmo visitarli tutti, insomma, verrebbe meno il senso della bacheca stessa. Una volta terminate queste operazioni, possiamo salvare. Vedete che automaticamente viene pubblicato anche su Facebook, adesso disattivo questa opzione, o su Twitter, sul mio account Facebook o Twitter, questo PIN. Ecco fatto, abbiamo pubblicato nella bacheca storia. Adesso non lo visualizziamo. Andiamo, torniamo nella mia pagina, andiamo a cercare la bacheca di storia. Eccola qui. E vedete, abbiamo trovato il PIN appena salvato. Possiamo salvare, per esempio, anche qualcos'altro. Per esempio, dobbiamo salvare un'immagine, mi procuro il link dell'immagine, e procedo adesso più velocemente allo stesso modo. Dal web, incollo l'indirizzo, vado avanti, seleziono l'immagine che voglio compaia, e qui scrivo, mappa delle scoperte geografiche, per esempio. Anche qui cercherò storia. Ecco qui, è salvo. Anche in questo caso. Visualizziamolo immediatamente. Eccolo qui il nostro link, che si trova nella bacheca di storia. Un'ultima cosa, prima di procedere oltre. I link, e quindi i segnalibri, i PIN, non vengono ordinati in nessun modo. Non è possibile spostarli per riordinarli. Vengono aggiunti e giustapposti l'uno all'altro, nell'ordine cronologico in cui li abbiamo inseriti. Qui vedete, ci sono parecchi segnalibri, perché io ogni tanto ne aggiungo qualcuno, e li utilizzo poi nell'attività didattica. Bene, vediamo un sistema più rapido per salvare i PIN in una bacheca. Si tratta di installare un pulsante, uno di questi, che ci permette, semplicemente cliccando il pulsante, di salvare immediatamente la pagina che stiamo visitando. Conviene scrivere su un motore di ricerca aggiungi il pulsante browser Pinterest, il primo risultato che ci compare indica il link a cui dobbiamo recarci, e selezioniamo il browser che utilizziamo, io utilizzo Google Chrome, e ci vengono fornite le istruzioni, e ci viene dato anche il link per recarci nella pagina e installare il pulsante. Come vedete, io devo semplicemente cliccare su ottieni l'altro pulsante del browser, e comparirà questa finestra che mi chiede l'autorizzazione di aggiungere questa estensione, io la aggiungo, come vedete risulta installata nella barra dei pulsanti. Bene, a questo punto cerchiamo, per esempio, Cristoforo Colombo, apriamo il documento che ci interessa, e vediamo come funziona questo pulsante. Basta cliccare, vedete, automaticamente vengono caricate alcune possibili immagini che io posso usare come segnalibro, usiamo la prima che troviamo, e qui abbiamo la solita procedura. Non c'è bisogno che aggiunga niente, Cristoforo Colombo, Guipedia, è un'informazione del tutto sufficiente per ricordarmi che cosa contiene questo segnalibro, questo PIN, e a questo punto quindi trovo la mia bacheca di storia, eccola qui, è salvo. Mi si avvisa che ho completato la procedura, e a questo punto ho salvato al volo, mentre navigo, senza dover aprire il mio account su Pinterest, selezionare la bacheca, eccetera, copiare e incollare il link, ma immediatamente posso salvare e classificare la risorsa che mi interessa. A questo punto non mi resta che mostrare come seguire altre bacheche, per esempio cerchiamo una bacheche di storia, ecco qua, qui mi si chiede storia romana, italiana, poniamo storia medioevale, bacheche, qui mi compariranno le bacheche, e basterà che io, ovviamente prima la visiterò, vedrò che link ci sono, se mi possono interessare, dopodiché cliccherò su segui, e a questo punto il gioco è fatto. Le notifiche relative a questa bacheche, alle attività che coloro o colui che la gestiscono, compiranno in questa bacheche, mi verranno comunicati e le troverò qui. Andiamo dentro la bacheche adesso, e supponiamo di aver trovato un link, questo, che mi interessa, un segnalibro che mi interessa. Come posso fare? Bene, prima di tutto posso anche cliccare su mi piace, posso leggere la descrizione, vedete qui non c'è nessuna descrizione, questo è un male, la persona che ha inserito questo link, che non ha fatto un buon lavoro, clicco su salva, semplicemente, clicco su salva, ho la possibilità di inserire una mia descrizione, e di scegliere la bacheca che mi interessa, la mia bacheca, cioè la bacheca in cui voglio salvare questo ping. E come vedete il gioco è fatto, sono riuscito a utilizzare il lavoro svolto da un'altra persona, il lavoro di filtraggio svolto da un'altra persona, di cui mi fido, e mi fido perché magari l'ho seguita per qualche settimana e ho visto che è una bacheca valida, che le fonti sono interessanti e attendibili, che il materiale è significativo, e quindi posso delegare a quest'altra persona, ecco cos'è l'intelligenza collettiva, questo tipo di attività, anziché andare io alla ricerca di risorse e contenuti sulla storia medioevale, cosa che mi prenderebbe molto più tempo. Bene, lo stesso lavoro che ho mostrato qui, fatto col computer, col pc desktop, si può anche fare con uno smartphone, un tablet, basta scaricare l'app da iTunes, se si ha un dispositivo IOS, oppure da Google Play, se si dispone di un dispositivo Android. Questo è tutto, in alto a destra troverete altri link alla prima parte del video tutorial sul Pinterest, e ad altri video tutorial in italiano. Vi saluto, vi ringrazio, buona giornata.